Questa mattina mi sono, come al solito, divertito a leggere il Sole 24 Ore e le pagine di norme e tributi hanno un titolo bellissimo Nei servizi infragruppo contestazioniva diaboliche questo è il titolo del Sole 24 Ore Ho letto l'articolo e mi sono reso conto all'interno di questo articolo che ormai il conflitto che c'è nelle aule giudiziarie, nelle commissioni tributarie in tutti i luoghi dove lo Stato incontra le imprese e viceversa ormai siamo di fronte a delle speculazioni intellettuali, legislative abusi di diritto, abusi di burocrazia, abusi di buonsenso che sono incredibili e anziché stemperare i toni, anziché cercare un punto di incontro trovare un punto di contatto attraverso il quale lo Stato e le imprese dialogano in modo civile sapete qual è l'esercizio che viene fatto? facciamo l'esercizio per vedere chi ce l'ha più lungo la pubblica amministrazione vuole dimostrare con i suoi ipergarantiti chi sono più intelligenti ce l'hanno più lungo di noi non garantiti e noi imprenditori paghiamo gli azzecchi a carbugli per dimostrare agli ipergarantiti della pubblica amministrazione che invece ce l'abbiamo più lungo noi così non si può andare avanti a lavorare questo è uno spreco di risorse, di energie, di intelligenze che anziché essere adoperate per far funzionare meglio la nostra società vengono utilizzate per premiare il narcisismo di qualche imbecille sia l'atto ipergarantiti che l'atto non garantiti il messaggio che io vorrei dare con questo appello è il seguente lo capiamo che serve un nuovo patto sociale o no? lo capiamo che dobbiamo parare a dialogare con un paese civile o no? lo capiamo che se noi continuiamo questi conflitti interni al nostro paese ci autodistruggiamo e il mondo ci prende per il culo e il mondo va avanti e ci supera e mentre gli olandesi diventano paradisi fiscali con il lusselburgo noi sprofondiamo nell'iva diabolica voi capite che se i nostri politici continuano a ridicare come dei cretini per avere le pagine dei giornali, avere più follower sui social noi corriamo il rischio che in Italia non viene più nessuno neanche in vacanza men che meno lavorare e fare affari ci rendiamo conto di questa demenzialità italiana o no? prendiamone atto tutti, ipergarantiti e non garantiti e cerchiamo di fare una scelta finalmente di buon senso smettiamola tutti adesso perché il coronavirus non permette più di continuare la ricreazione nella quale siamo da vent'anni il Brambilla